La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo nella categoria innovazione e leadership, passiamo a eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, soluzioni di business, intelligence, compliance and information management. Il premio va a Save Consulting Group. Per essere un'eccellenza nel supportare enti crediti e società finanziarie, nell'ottimizzazione dei propri investimenti e nella riduzione dei rischi patrimoniali e di liquidità, per l'ampia conoscenza dei processi e delle normative bancarie, per la tempestività delle risposte per le soluzioni dedicate e personalizzate. Complimenti. Siamo in compagnia del dottor Davide Savelli, CEO della Save Consulting Group. Questa sera siete stati premiati come eccellenza dell'anno settore delle soluzioni business intelligence, compliance e information management. Come può commentare questa importante vittoria? Ma sì, guardi, sono particolarmente onorato di ricevere questo premio, perché è un premio che gratifica sia la leadership aziendale, ma penso che gratifichi un po' tutto il team della Save Consulting. Noi della Save Consulting ogni giorno lavoriamo dando il massimo per raggiungere gli obiettivi in termini di rapidità, di efficienza e di innovazione. Sono molto contento appunto di ricevere questo premio, perché è una gratifica di tutto il lavoro svolto in questi anni. Noi di Save diamo molta attenzione al cliente e infatti quando lavoriamo ci mettiamo sempre dalla parte del cliente per valutare l'efficacia e la buona riuscita del nostro lavoro in termini di efficientamento dei processi, ad esempio quali quantitativi, di cost saving o di risparmio di tempo. Soprattutto poi gli argomenti che lei ha citato, fa particolare piacere ricevere un premio su questi, perché è un po' il nostro core business, il core business aziendale è un po' il nostro punto di forza, quindi sono molto grato di questo. Come azienda voi fornite consulenza, formazione e software. Ci può raccontare meglio la storia del vostro gruppo e l'approccio innovativo? Certo, noi come società Save Consulting nasce nel 2010 con l'obiettivo di erogare servizi di consulenza e formazione per banche e società finanziarie, quelle che una volta venivano definite società finanziarie, articolo 107 del TUB, ora diventate 106, in un ambito ben specifico che erano le segnalazioni di vigilanza e il bilancio. Save durante questi anni cresce, acquisisce quote di mercato, grazie anche alla normativa alla normativa che si evolve, che rispetto a quando siamo partiti, dove pressoché era completamente italiana, ad oggi viviamo in un mondo armonizzato, in un mondo europeo, quindi sicuramente vi è più una difficoltà ma anche un'opportunità di supporto al cliente. Cito solo due esempi, ad esempio da novembre 2014 con l'MVU, il meccanismo di vigilanza unificato, dove la BCE ha acquisito i pieni poteri di vigilanza sul sistema bancario europeo, pensiamo ad esempio alle regolamentazioni basilea, quindi requisiti patrimoniali, prudenziali e di liquidità. Ad oggi la società è strutturata su tre aree o tre divisioni, consulenza, formazione e sviluppo software. L'area della consulenza, eroghiamo servizi di consulenza sia in ambito direzionale che operativo, nelle aree del CFO, quindi amministrazione, quindi sempre regolatori reporting, bilancio, contabilità. Nell'area del risk management, quindi i tre pilastri di Basilea, quindi assorbimenti patrimoniali di liquidità, ICAP, ILAP, informativa al pubblico, nonché un asset quality review e le note metodologiche sugli NPL, ahimè molto in focus nell'ultimo periodo. Eroghiamo servizi anche per l'area crediti, l'area organizzazione, scrivendo policy, procedure, manuali operativi e ovviamente per la compliance che abbraccia un po' a livello normativo tutte queste unità organizzative che le ho appena detto. Mi chiedeva l'approccio. Noi abbiamo, diciamo così, un motto che è presente anche sul nostro sito, che è FIRE, che poi l'abbiamo coniato come acronimo, che è flessibilità, integrità, rapidità ed efficacia. Questo glielo dico con il motto del nostro presidente che dice sempre noi dobbiamo stare sulla spuma dell'onda per avere successo, quindi sopra la cresta dell'onda che tra l'altro il nostro presidente lo saluto che in questo momento non sta tanto bene ricoverato all'ospedale quindi gli faccio un grosso abbraccio, anche perché se siamo qua questa sera il merito è anche suo. Dottor Savelli, che obiettivi vi ponete per quest'anno e per il futuro? Sì, sicuramente su quest'anno continuare a sviluppare nelle aree di business intelligence con modelli ovviamente legati alla compliance e all'information management, con modelli che prevedono in real time l'analisi della produttività dell'azienda con la possibilità anche di effettuare simulazioni o confronti andamentali. Per il futuro questo sicuramente è un primo passo per arrivare poi a un modello di intelligenza artificiale dove anche ex ante e anche previsionalmente si possa andare incontro ad analisi di nuovi prodotti o riefficientamento di processi organizzativi grazie appunto all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Questo è quello che io definisco una buona tecnologia, cioè l'aiuto alla controparte, all'azienda per raggiungere con più rapidità e più efficienza i suoi obiettivi.